Lunedì il generale Vannacci potrebbe essere ospite in una scuola a Firenze per presentare il suo libro. Per chi non se lo ricordasse, in questo libro ci sono scritte cose del tipo, ve lo leggo citando testualmente il suo libro, quando con tutta la famiglia ci trasferimmo a Parigi, cominciai a venire a contatto quotidianamente con persone di colore. Mi ricordo nitidamente quanto suscitassero la mia curiosità, tanto che nel metro fingevo di perdere l'equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro per capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno dura e rugosa della nostra. Quindi magari a scuola vuole insegnare che le persone nere non hanno la pelle ma la carta vetrata? Non lo so. Nel suo libro poi comunque lui fa capire che c'è un problema di integrazione. Allora qual è la soluzione affinché tutte le diverse etnie possano convivere insieme? Beh, lui dice la convivenza di più civiltà è tanto più pacifica quanto più vi è il dominio di una civiltà sulle altre. Quindi secondo lui la soluzione è una etnia che comanda su tutte le altre. Non so, a me ricorda vagamente qualcosa che diceva un uomino con i baffi, però magari mi sbaglio. Ma magari a scuola potrebbe anche insegnare qualcosa alle ragazze, no? Che cosa? Beh, considerando quello che ha detto sulle femministe sicuramente avrebbe tanto da dire. Infatti lui dice che l'unica cosa che le femministe sanno fare è promuovere il divorzo e l'aborto, come se fossero qualcosa di sbagliato. E poi scrive, le moderne fattucchiere, lui definisce così le femministe, sostengono che solo il lavoro e il guadagno possano liberare le fanciulle. E voi direte, sì vabbè dai, ma mica vorrà dire che le donne devono stare chiuse in casa a lavorare? Beh, diciamo che poi parlando della famiglia tradizionale, sempre sul suo libro scrive, Sono figlio di una famiglia tradizionale, un padre che lavorava e che spesso non era presente, una madre casalinga, che quasi da sola si è occupata di tutte le faccende domestiche e ci ha cresciuti. E sì, secondo lui questo è il modello di famiglia secondo il quale tutti gli italiani e le italiane dovrebbero basarsi. Quindi la donna che si prende cura dei figli e del marito e della casa è il marito che va a lavorare. Poi per carità io magari non dico che lui sia contro le donne che vanno a lavorare. L'importante però è che puliscano la casa e che facciano trovare da mangiare e che si prendano cura dei figli, perché i mariti hanno cazzi da fare. Ma magari un'altra cosa che potrebbe insegnare nelle scuole andando a presentare il suo libro è il diritto a utilizzare parole che sono considerati insulti da chiunque. Purtroppo queste parole non ve le posso leggere perché mi bloccherebbero il video, ma se leggete qua sopra vi fate un'idea di cosa sto parlando. Insomma, chi se ne frega se le scuole italiane stanno cadendo a pezzi, se il sistema scolastico italiano è ancora fermo a quello di 90 anni fa, se gli studenti e le studentesse italiane vivono una realtà scolastica che ormai è indietro anni luce rispetto ad altri paesi europei. Chi se ne frega di lanciare messaggi di inclusione e di rispetto, semplicemente, facendo capire che ogni realtà deve essere rispettata nel momento in cui non crea nessun danno a qualcun altro. Ma no, è meglio chiamare il generale Vannaccio a presentare il suo libro, come se non bastassero i soldi che si è già guadagnato con questa cosa. E attenzione, non voglio dire che sia sbagliato far pubblicare il libro, perché siamo in una democrazia ed è giusto che ognuno possa dire quello che vuole, ma la scuola non deve essere il luogo per ospitare persone che hanno da dire cose di questo tipo. Ma a quanto pare questa è la linea di pensiero prevista dall'attuale governo. Infatti anche Salvini ha dichiarato che non si candida alle europee, ma candiderebbe volentieri proprio il generale Vannacci. E lui risponde, grazie, valutero. Quindi sì, per citare proprio il suo libro, devo dire che il mondo è davvero al contrario, perché chi vorrebbe semplicemente vivere la propria vita senza essere insultato e senza danneggiare la vita degli altri, viene accusato di pensiero unico, mentre chi vuole andare nelle scuole a far mettere queste idee che di rispetto non hanno nulla nei confronti del prossimo, viene addirittura candidato come rappresentante dell'Italia in Europa. A voi i commenti. Grazie.